Lo hanno arrestato il giorno di Pasqua all'aeroporto Falcone Borsellino, che entrava dal Brasile per passare le feste con i parenti. Dalle indagini dei carabinieri di Palermo, coordinati dalla direzione antimafia, sarebbe emerso che il 43enne Giuseppe Calvaruso, fermato con altri quattro, avrebbe voluto imporsi come un boss vecchia maniera. Secondo i PM sarebbe diventato reggente del mandamento di Pagliarelli, ruolo in precedenza ricoperto da settimo mineo. Il precedente capo di Pagliarelli è stato da noi arrestato come il vertice di Cosa Nostra, palermitana, dell'operazione Cupola 2.0. È evidente che è uno dei mandamenti centrali nelle dinamiche cittadine e provinciali di Cosa Nostra. Per gli inquirenti dal Sud America, Calvaruso reinvestiva i capitali delle cosche in affari internazionali, preoccupandosi però anche del controllo del suo territorio. Così, quando un commerciante vittima di due rapine si era rivolto ai suoi uomini, il clan aveva rintracciato e punito i colpevoli, pestandoli a sangue in presenza del rapinato e di Calvaruso che poteva così mostrarsi come un garante dell'ordine pubblico. Una presenza sul territorio è fondamentale, controllare il territorio per le famiglie di Cosa Nostra rimane uno degli aspetti principali.